Oggi vi faccio vedere un modello della Cold Steel. Si tratta del Forged Hunter in 5200. Arriva con un fodero in pelle, logicamente ben fatto proprio quella della Cold Steel. Il coltello è un forgiato unico pezzo da caccia. Da questo lato vedete ci sono i nomi del costruttore, più altre informazioni. E da questo lato abbiamo invece il modello. Drop Forged Hunter, da questo lato c'è il nome e dall'altro abbiamo l'acciaio 5200 Agri Carbon e il nome Cold Steel. Come vedete è tutto un unico pezzo, ha un incavo sulla parte del manico per evitare che sia effettivamente poi troppo pesante. Si impugna abbastanza bene anche la presa in reverse. Devo dire che la lama Drop Forged e Drop Point è anche abbastanza comoda e pratica per la caccia. Il coltello non è taglientissimo ma questo è un modello usato quindi ad un certo punto può anche andare bene. Modello da poter utilizzare a caccia o anche in escursioni, date le esiguiti dimensioni. E' un po' diciamo pesante però effettivamente abbastanza pratico come modello. Cold Steel Drop Forged Hunter Dotto Ah Election